La residenza in Italia è una chiave d'accesso a diritti costituzionalmente garantiti, qual è il diritto al lavoro, qual è il diritto alla sanità, qual è il diritto all'assistenza sociale, qual è il diritto alla difesa giuridica, qual è il diritto di voto. Senza una residenza non si può accedere, non si può firmare un contratto, non si può affittare una casa, non si può essere ricoverati in ospedale. In Italia si è previsto che ci sia una residenza fittizia, ossia non legata a un immobile, se una persona perde la casa, ma legata alla volontà di quella persona di stare su quel comune, su quel territorio. La residenza fittizia permette di non avere cittadini serie A e serie B ed è un obbligo di legge previsto in capo ai sindaci di ogni comune.